buongiorno amici un salutone dal vostro adobora allora volevo andare subito avanti con il libro di osho meditazione per chi ha fretta alle radici della mindfulness e precisamente parlarvi della meditazione correre fare jogging e nuotare dove quando farla in palestra mentre corri o pratichi altre attività all'aperto in generale quando sei in movimento durata dipende dalla durata dell'attività a cui viene legata considerala una marcia in più che amplifica qualsiasi attività outdoor il metodo cogli l'essenza della meditazione mentre corri fai jogging nuoto o pratichi qualsiasi attività outdoor il suggerimento di osho quando sei in movimento essere attento e presente e semplice naturale mentre quando sei semplicemente seduto in silenzio la cosa più naturale e addormentarsi essere vigile mentre sei sdraiato nel tuo letto è molto difficile perché tutto il contesto ti spinge a dormire ma se ti muovi sarà naturale non addormentarti perché sei molto più attento e presente l'unico problema è che il movimento può diventare meccanico impara a fondere tra il loro corpo mente e anima trova delle situazioni in cui muoverti come un'unità a chi corre accade molto spesso forse non pensi che correre sia una forma di meditazione ma in realtà spesso le persone che corrono fanno esperienze meditative molto intense loro stesse vengono colte di sorpresa perché non erano in cerca di quel tipo di esperienza chi penserebbe mai che correndo sia possibile sperimentare il divino eppure è accaduto e oggi giorno è sempre più chiaro che correre sta diventando una nuova forma di meditazione la meditazione dunque può accadere anche con la corsa forse ti sarà capitato di provare piacere correndo di prima mattina quando l'aria fresca annuncia il nuovo giorno e senti che il mondo intero si sta svegliando e sta riemergendo dal sonno mentre corri il tuo corpo si muove in modo armonioso l'aria fresca un nuovo mondo riemerge dall'oscurità della notte tutto ciò che ti circonda emana una melodia in questi momenti ti senti così vivo che a un certo punto colui che sta correndo scompare e resta soltanto la corsa il corpo la mente l'anima si muovono all'unisono e all'improvviso si scatena un orgasmo interiore talvolta le persone che corrono sperimentano del tutto casualmente uno spazio in cui la mente scompare e rimane solo la pura consapevolezza tuttavia spesso non se ne accorgono perché pensano che quella gioia momentanea dipende solo dipenda solo dal fatto che stanno correndo è una bella giornata il corpo in piena salute il mondo è meraviglioso e si è creato uno stato d'animo particolare di solito dunque non si rendono conto di cosa si tratti ma potrebbero farlo nella mia esperienza chi corre può avvicinarsi alla meditazione con più facilità di chiunque altro fare jogging e nuotare possono aiutare moltissimo perché queste attività possono essere trasformate in meditazione abbandona l'idea che meditare significhi stare seduti sotto un albero assumendo una qualche posizione yoga perché questo è solo uno dei tanti modi che esistono può andare bene per qualcuno ma non per tutti per un bimbo per esempio non è una forma di meditazione ma una tortura per un giovane attivo e pieno di vitalità non si tratta di meditazione bensì di repressione vai a correre per strada al mattino all'inizio corri per un chilometro e mezzo poi aumenta la distanza fino a tre chilometri fino ad arrivare ad almeno otto chilometri mentre corri usa tutto il corpo non muoverti come se stessi indossando una camicia di forza ma come fanno i bambini usando ogni parte del corpo e muovendo braccia e gambe continua a correre respirando profondamente e lasciando che l'aria penetri fin nella zona dell'ombelico poi siediti sotto un albero riposati suda e lascia entrare dentro di te l'aria fresca proverai una sensazione di pace che ti aiuterà moltissimo ogni tanto appoggia semplicemente i piedi nudi sulla terra sentendone la freschezza la morbidezza o il calore limitati a percepire qualsiasi sensazione la terra sia pronta a offrirti in quel preciso istante e permettile di crescere dentro di te lascia inoltre che la tua energia fluisca nella terra e connettiti con lei se ti connetti alla terra sei connesso anche alla vita e di conseguenza al tuo corpo connettendoti alla terra diventi estremamente sensibile e centrato ed è esattamente ciò di cui hai bisogno evita di diventare un corridore professionista rimane un dilettante così continuerai a essere attento e presente se qualche volta ti capita di sentire che correre sta diventando un'attività automatica smetti e prova invece a nuotare quando anche il nuoto diventa automatico sperimenta la danza è fondamentale ricordare che il movimento è soltanto una situazione per creare consapevolezza finché riesci a renderti consapevole va bene ma se smette di farlo non serve più a niente ed è ora di passare a un'altra forma di movimento in cui tu riesca di nuovo a essere attento e presente non lasciare mai che un'attività diventi automatica bene amici provate questa meditazione e fatemi sapere cosa ne pensate se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale e ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo alla prossima meditazione ciao 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 ciao